Plataci, Plateni in Arbresh, Plataci in Calabrese, Platachi e Platani in greco-bizzantino, è un comune calabrese di 675 abitanti, detti Platacesi in italiano e Platenean in Arbresh della provincia di Cosenza. Plataci è il paese in cui ci sono i murales sul mondo Arbresh, è un borgo che si trova a un'altitudine di 930 metri sul livello del mare, gli abitanti sono di etnia Arbresh e conservano ancora l'antica lingua, i costumi tradizionali e il rito bizantino greco. Plataci è un centro agricolo del versante orientale del Pollino, dominante la piana di Sibari e il Marrionio. Anticamente era il villaggio di Cerchiara, detto poi Plattici e Plataci. Il nome potrebbe essere derivato quindi da Platania o Platania, ossia Bosco di Platani in greco. Gli esuli albanesi si sarebbero insediati qui intorno al 1476 nel preesistente casale di Cerchiara, che poi abbandonarono probabilmente in occasione del terremoto del 1456. Il paese fu prima casale del marchesato di Cerchiara e poi passò ai Pignatelli, che lo tennero fino al 1806, anno in cui finì il feudalesimo. Fa parte delle comunità italoalbanesi e anche se gli archivi sono stati bruciati in seguito a un incendio sospetto all'interno del comune circa 100 anni fa, si sa che gli esuli albanesi si insediarono in pianta stabile e conservarono la loro cultura, sposandosi solo tra di loro. Così per 500 anni hanno conservato la discendenza albanese senza mescolarsi. Dal 5 al 21 agosto vi sono varie manifestazioni tradizionali e culturali. Accensione di falò, giornate ecologiche con escursione al Monte Sparviero a quota 1713 metri, mostre di pittura, scultura e antiquariato di artisti locali. Interessante è il recupero del tradizionale corteo tunziale al suono della zampogna o dell'organetto con la vestizione dei costumi tipici albanesi di gala da parte dei parenti e delle amiche della sposa. Molto interessante infatti è il costume tradizionale al Bresch, indossato dalle donne. Particolare menzione merita la festa della Madonna di Costantinopoli o dell'Odigitria, che viene festeggiata in primavera, il martedì dopo la Pentecoste e il primo martedì di novembre, molto sentita tra la popolazione per significati non solo religiosi ma anche sociali e propiziatori. Il comune è gemellato dal 2012 con Grams, un comune albanese situato nella prefettura di Elbasan, nell'Albania centrale. La città, una volta capitale di un principato autonomo, è stata identificata dagli storici come il luogo d'origine della famiglia di Antonio Gramsci, che da lì sarebbe emigrata verso la Calabria nel 1500, in seguito naturalmente all'invasione turca e per sottrarsi ad essa. Altre fonti indicano invece che il trisnonno di Antonio era giunto da Gramsci dopo i moti del 1821 e italianizzò il suo cognome in Gramsci, come affermò lo stesso Antonio Gramsci.